Buongiorno ragazzi, pensavo di mandarvi la pagina con le chiavi di correzione degli esercizi che avete svolto per l'altra settimana però oltre che mandarvi il documento avevo intenzione di farvi io la correzione come facciamo di solito in classe cominciamo dal primo A, così avete tempo di prenderlo e potete vedere sullo schermo la correzione e io intanto vi leggo la frase tutta completa l'esempio è già svolto quindi lo lasciamo così la numero uno, la frase corretta è This exercise is more difficult than the others Number two Mexico City is one of the biggest cities in the world Number three Lorenzo is very tall but Luca is the tallest of all Number four Stay in a bed and breakfast is more comfortable than camping And the last, number five Glasgow is the biggest city in Scotland Exercise B Complete Complete The sentences with more are very Number one Your computer is very powerful Number two My camera is more complicated than my mom's Number three The final match was very exciting And number four Your brother is more intelligent than mine L'esercizio tre è uno di quelli che di solito crea problemi perché è la traduzione dall'italiano all'inglese Tenete conto che io vi do una traduzione standard Fossimo in classe potremmo metterci a discutere se si può usare una parola invece che un'altra Una costruzione invece che un'altra Per il momento ci accontentiamo di quello che possiamo fare Number one Tomorrow we are going to see a new horror film Number two I go to the gym three times a week Number three I have to finish my homework now Then I'm going to the gym with my brother Number four What are you doing this evening? And the last, number five We are living tomorrow morning at eight o'clock Nell'esercizio D dovevate scegliere tra le due opzioni che vi venivano date quella corretta Cominciamo dalla prima Mezzofanti spoke more than 38 foreign languages And Italian has his mother tongue Number two This book is very interesting Number three I'm going to bed early this evening And number four Peter's playing football with his friends on Saturday afternoon Esercizio E era un esercizio sull'uso delle preposizioni Quelle che noi abbiamo studiato al momento Quindi seguite sul libro o sul quaderno dove le avete svolte e controllate di aver fatto bene Nel caso abbiate fatto tanti errori Qui le frasi in tutto sono otto Diciamo se risultano sbagliate più di cinque frasi Sicuramente bisogna andare a fare una revisione dell'uso di queste preposizioni E poi vi manderò anche un esercizio nel caso vi troviate in questa condizione Cominciamo dalla frase numero uno I like listening to all kinds of music But I like rap best of all Number two We stayed on a farm in the north of England Number three I usually go to work by bus But today I went on foot I'd like to live on a desert island We all had a wonderful time on holiday Marco's English is much better than mine Number seven My cousins are coming to visit us for a week Number eight How long does it take to get to New York by plane Correggiamo l'esercizio F We are going hiking in the Dolomites next week We are staying at campsite near Cortina Number two Number two In the UK schools are closed on Saturday Number three If the cinema is closed We can walk there Number four Please stop singing that stupid song I'm trying to concentrate And it's really annoying Number five We had a good time in Egypt Aggiungo alcune considerazioni sulle parole che abbiamo incontrato in questo esercizio Nella prima frase camping e campsite sono spesso fraintese dai nostri studenti, dagli studenti italiani Ma camping è solo il verbo, quindi indica l'azione, mentre campsite è il campeggio, cioè il luogo dove si può campeggiare Closed e close, anche queste sono due parole che spesso si confondono Closed è usato come aggettivo, quindi è il caso della frase numero due Mentre close che usiamo nella terza frase indica lo stato in cui si trova Un luogo E in questo caso close non vuol dire chiuso ma vicino, prossimo Quindi è un aggettivo diverso Numero quattro Anche qui annoying e boring sono spesso fraintesi Annoying vuol dire che dà fastidio E anche nella quinta frase c'è una coppia di espressioni che spesso vengono fraintese usate male Have a good time vuol dire trascorrere un bel periodo, trascorrere un bel momento Mentre stayed well è solo la traduzione letterale dall'italiano all'inglese e non è corretta Ultimo esercizio Come vedete solo la prima frase è corretta così come vi è stata data Mentre per tutte le altre bisogna fare delle correzioni Le correzioni sono sottolineate Quindi potete rendervi conto subito di quali sono gli errori Nella prima frase corretta, cioè la numero due And gliding is very dangerous More non si può usare Non c'è il secondo termine di paragone Nella terza bisogna cambiare la preposizione On foot è un'eccezione Abbiamo detto che tutti i complementi di mezzo Si traducono con by Tranne appunto quello che ha a che fare con i piedi Quarta frase Indica un'azione che avviene in questo momento Anche se questo momento è un periodo lungo This week E quindi dobbiamo usare il present continuous E invece nell'ultima usiamo sempre il present continuous Perché è un accordo che Sally ha preso con i suoi amici E quindi non possiamo usare il semplice simple present Perché non è un'azione abituale È davvero strano correggere i vostri esercizi in questo modo E però per il momento siamo chiamati tutti a fare uno sforzo Voi sicuramente tanto Perché immagino siate a casa E in qualche modo vi possiate anche un po' annoiare Vedere gli amici a scuola è sempre una gran cosa Io pure perché mi mancate proprio tanto Ciao ciao